Ciao a tutti, benvenuti nella nostra prima diretta all'alba della fine dell'anno e come avete visto sarà con Fabiana, quindi adesso la aggiungo un secondo solo, eh? No, non la trovo. Niente, dobbiamo aspettare che arrivi Fabiana perché non me la fa invitare. Ora le scrivo un messaggio. Comunque ciao a tutti, siete già tantissimi. Mi fa... sì, sono anche pure un po' raffreddato. Fabiana, se ci sei fammi un segno. Dov'è? Finita? Allora, allora, allora. Come state ragazzi? Come state passando le vacanze intanto? Parliamo un po', vi intrattengo un po'. Eccola, è arrivata, niente. Adesso la invito. Eccomi. Eccola. Ci sono. Ciao Lorenzo, piacere conoscierti. Come stai? Ciao, piacere mio finalmente. È vero, grandissimo piacere. Io ti conoscevo veramente da diverso tempo, anche da più di un annetto, mi sa. Sì, allora hai visto la mia evoluzione. Sì, no, ma ti seguivo su LinkedIn e mi sembra che i ragazzi di un master che io seguivo ti avessero anche intervistato quando lavoravo per la 24 ore business school. No, non lavorai più per la 24 ore. Sì, c'erano dei ragazzi che mi avevano intervistato e avevano intervistato anche un'altra ragazza. Sì, esatto. Esatto. Infatti ti seguivo ancora da prima perché comunque eri tipo per me il guru delle pubblicità non convenzionali. Poi ho scoperto che eri uno studente, quindi eri veramente, anzi, grandioso. C'è un esempio di personal branding da paura, dico sempre. Onorato. Per me è incredibile sentirmi dire queste cose, soprattutto perché me le dici tu e soprattutto perché sono io uno studente. Per me è una dimostrazione di come veramente da studente puoi comunque dare un'impressione di competenza e comunque fare spessore anche in un social come LinkedIn che tu pensi è popolato solamente da top manager, executive. Sì, da vecchi e da chi cerca lavoro. Esatto, sì, a parte. E chi ci prova in chat, fai i provoloni di LinkedIn. Vabbè, ma quelli ovunque. Comunque, tralasciando i complimenti a me, dato che sei tu quella intervistata a cui si dovrebbero fare i veri complimenti, non so, io direi di dire tu due parole per chi non ti conoscesse ancora, anche se è un po' difficile. Vabbè, nel senso, non sono Chiara Ferragni, quindi. Vabbè, insomma, 100k oggi su TikTok. Sì, 100k soprattutto all'età anagrafica di 38 anni, che ricordiamo, non sono pochi, devo dire, senza balletti, senza mettermi in mostra, senza nemmeno far ridere, parlando comunque. È questo, è questo il grande risultato, non è poco. Io ho provato a utilizzarlo in modo intelligente TikTok, ma la mia fanbase mi ha un po' insultato e… Beh, lo so. Sì, diciamo che se parli di TikTok su Instagram, le persone dicono, ah, no, TikTok, no, assolutamente, invece no, sono un social che a me ha dato tante soddisfazioni. Comunque, chi sono io? Io nella vita lavoro nella formazione post laurea, sono responsabile di formazione in una business school a Milano e mi occupo nella vita di organizzare master, di curare quello che è l'orientamento sia in entrata, quindi la selezione dei partecipanti e l'orientamento in uscita, quindi il placement. Quindi tutto quello che io racconto sui social, sono nata su TikTok all'inizio del 2020, poi su Instagram a partire dalla seconda metà di quest'anno, è dovuto al mio lavoro. Quindi contatto con i ragazzi, i loro paure, i loro timori, dare loro delle nozioni pratiche su come può affacciarsi al mondo del lavoro e poi soprattutto il contatto con le aziende. Quindi cosa cerca le aziende, le loro paure, le loro richieste e anche appunto come evitare quelle che possono essere delle defaianze durante soprattutto i primi colloqui di lavoro, le prime selezioni. Che è poi ciò di cui andremo a parlare oggi a tal proposito. Io invece mi presento per chi non mi conoscesse perché in realtà questa, come stavo dicendo prima che entrassi, è la nostra prima live. Io non sono mai apparso direttamente sulla pagina Instagram e non ci ho mai tenuto perché voglio che cammini con le sue gambine e soprattutto ormai adesso cammina più di me, dato che il seguito è molto maggiore rispetto al mio profilo, per cui sono contento di questo risultato. Questa è stata la scelta che ci ha portato, mi ha portato a non voler mai mostrarmi qui. Però mi presento, io sono Lorenzo Ferrari, sono uno dei due fondatori di Smart Talks, sono un social media manager, un copywriter, soprattutto uno studente universitario e corro per la laurea in relazioni pubbliche e comunicazione d'impresa all'Università Yulm. Quest'anno, si spera. Perfetto. Grande, grandissimo. Ti spera. Ho aggiunto, era importante evidenziarlo, incrociamo le dita. Vabbè, certo. Finché non hai discusso la tesi, sempre si spera. No, per ora devo ancora iniziare a scriverla, quindi ne riparleremo. Non avrai sicuramente problemi. Speriamo. Comunque, l'altro giorno faccio una piccola introduzione. Io e Fabiana abbiamo fatto uno scambio sui nostri profili personali riguardo una tematica, ossia quanto è importante oggi per dei giovani o per degli studenti portare avanti dei progetti personali in concomitanza agli studi. Ovviamente Fabiana ha risposto benissimo, ha dedicato molte storie all'argomento, ma oggi vorrei riprendere questo tema e parlare un po' anche di formazione, di cosa le aziende guardano del mondo del lavoro oggi, nel 2020, con il Covid. Grazie a tutti dei commenti. Intanto non vi rispondo perché parlo, ma vi leggo. Anzi, se avete domande, mi interrompo un attimo, fatele perché le porrò a Fabiana. Tu le vedi le domande? Sì, sì, le leggo, le leggo. Sto leggendo tutti l'emotico. Ecco, fate domande. Vede che non le faccio mai le dirette. Le dirette devono essere interattive. Ecco, non ci fate parlare a noi perché noi ci piace parlare e arriviamo anche a due ore a parlare parole. Deve essere utile anche per chi segue, visto che siete 105 persone collegate. Il 31 di dicembre, ricordiamoci. Tantissimi, quindi grazie. Dunque, arriverai appunto a iniziare a parlarne. La prima domanda che ti farei, che è poi l'inizio del nostro discorso, è in un mondo del lavoro sempre più competitivo come oggi, in cui avere una laurea è quasi necessario per molte professioni, perché certe professioni non puoi nemmeno accedere senza avere una laurea minimo triennale. La laurea comunque non basta. Allora, quindi, quanto è necessario per un candidato distinguersi dagli altri, ma quali sono le opzioni possibili per farlo? E a tal proposito hai dei consigli e quanto è importante farlo, soprattutto? Allora, è molto, molto, molto importante, soprattutto quando hai degli studi che non sono degli studi professionalizzanti in modo univoco, nel senso. L'esempio che faccio sempre, se tu studi ostetrici, è chiaro che andrei a fare l'ostetrica, non hai molte altre alternative, ma se tu studi lingue, hai veramente un ventaglio possibile di professioni che è ampissimo e poi soprattutto si aggiorna anno dopo anno. Quindi distinguersi è fondamentale. Distinguersi, adesso vorrei fare anche una dovuta premessa, non vuol dire andare a casaccio, disperdere l'attenzione da quelli che sono i propri obiettivi, vuol dire innanzitutto coltivare i propri interessi. Io immagino che tutti coloro che hanno scelto un'università l'hanno fatta iniziando da quello che erano i propri interessi, l'hanno fatta perché mi interessa approfondire quello. Quindi a partire da quegli interessi, cercare innanzitutto di mirare a un punto che può essere perfezionare la lingua, nel caso io studio lingue, perfezionare l'utilizzo degli strumenti, non so se io studio chimica, però arricchire questo da una serie poi anche di competenze, uno trasversali e due anche di conoscenza di quello che può essere il mondo del lavoro, della professione in generale. Quindi questo diciamo come macro struttura. Come fare nello specifico? Nello specifico distinguersi significa essenzialmente andare anche oltre la laurea, nel senso che la laurea triennale è, come dicevi tu giustamente, per tanti lavori, per la maggior parte, ormai è il requisito minimo, è un po' il requisito minimo per qualsiasi lavoro impiegatizio, ecco possiamo anche dirlo. Ma sedi laureati in triennale, in economia aziendale, con anche 110 lordi ne abbiamo veramente una caterva, quello che distingue sono poi anche delle attività parallele che possono essere svolte, o per dire come scambio studenti, Erasmus, esperienza all'estero, o anche aver fatto parte di associazionismo, associazioni come IESEC, come tutte le associazioni che girano nelle università, non so, Women in Business and Finance, in Cattolica, tutte le associazioni che ci sono, sono importantissime perché ci espongono poi a una serie di attività, ma anche a un'organizzazione che replica un po' quella aziendale, ecco. Poi altre attività possono essere anche i progetti personali, il tuo progetto Smart Talks è un progetto bellissimo, un progetto che è nato da zero dalla volontà dei studenti, è diventato un punto di riferimento per quanto riguarda la pubblicità, ma anche curare la propria immagine personale sui social. Tu Lorenzo sei un esempio, ma è emblematico il tuo caso, su LinkedIn, è un social potentissimo dal punto di vista della visibilità, è un po' come una specie di TikTok, perché in base al gradimento di un post, il tuo post può raggiungere veramente chiunque, ritagliarsi uno spazio per parlare di quelli che sono i propri interessi, i propri studi, i propri progetti, dare spessore al proprio profilo. Concludo poi questa domanda con una piccola chiosa. Non è necessario avere, perché molti mi dicono, eh sì d'accordo, solo i figli di papà possono fare queste esperienze, 30.000 tirocini, andare all'estero. No, no, su quello io mi permetto di dirlo, anche perché conosco, io non vengo da origini fastose, come dico sempre, ma aprire un canale YouTube non costa nulla, scrivere articoli per un portale non costa nulla, aprire un e-commerce e iniziare magari un'attività di compravendita non costa nulla, quindi è proprio l'idea, la distinzione. Ora dipende poi da noi. È chiaro, non è facile, non è che parlo di una passeggiata, è fatica. È fatica andare a fare dei contenuti su un social e studiare all'università e essere impari, perché poi avrai anche comunque delle incombenze sicuramente più onerose. Però, ripeto, paga quando vai a un colloquio, perché comunque avrai molto più di cui parlare e cui distinguerti. Scusa che ho fatto una cosa un po' lunga. No, no, ma hai fatto bene, ma diciamo che secondo me è fondamentale, che è un punto che tu hai sottolineato ma che marcherei, non pensare di distinguersi solamente attraverso l'esperienza universitaria, ad esempio, o solamente facendo dei corsi. Per esempio, Mick, ti chiamerò Mick, Mick Smania ha scritto che sta facendo dei corsi per poter entrare nel corso, nel master di marketing. Esatto. Secondo me è importante focalizzarsi sui corsi, a crescere le proprie conoscenze, ma non solamente a livello universitario, o tramite master, o tramite corsi, ma portando avanti proprio dei progetti, come hai detto te stessa, che possono essere dal fare un e-commerce a creare un blog, o scrivere per un blog, o prendere parte a un progetto già esistente. Cioè l'importante è, secondo me, tenersi, tra virgolette, allenati. E non solo i corsi o l'università te lo consentono. Esatto. Soprattutto l'università, ahimè, a volte non ti consente quel contatto con il mondo del lavoro, con il mondo reale. L'università è un po' un mondo ideale, fatto di nozioni, di modelli, ma poi quando vai nel precipitato delle professioni, dici, Dio, cosa faccio con una laurea in scienze della comunicazione? Tu sei molto avanti, perché già fai il social media manager, il copywriter, ma io ne conosco io stessa, che uscita da scienze della comunicazione, io per la precessione ho studiato comunicazione internazionale, avevo dieci esami di linguistica, ma non avevo mai visto, non so, comunicato stampa, come si facesse, per esempio. Sì, perché diciamo che le università, lo posso dire anche nel mio caso, tanto ormai ho detto il nome di quella che frequento, perché fa niente, non ti spronano moltissimo. Magari ti offrono i contatti con il mondo del lavoro, e nemmeno tutte comunque lo fanno, però, almeno nel mio caso è stato così, ma anche in molti altri casi che conosco anche di altre università, le università non spingono molto i progetti personali degli studenti, spesso li ignorano, e questo secondo me è un peccato, è più che, non si tratta di avere un appoggio finanziario, sia chiaro, si tratta che è un po' demoralizzante, può essere demoralizzante. Davvero, tu non hai gli strumenti per comprendere quello che ti circonda, quindi vedi, sì, possono anche presentarti delle testimonianze, però se ti presentano il top manager, o, non so, il responsabile dell'unità di crisi della Farnesina, da te quello c'è un abisso, tu non sai assolutamente che strada prendere. Una cosa che io dico spesso, che magari appunto vorrei puntualizzare, è che il lavoro ideale non è quello che ti dà soldi o ti fa viaggiare, il lavoro ideale è quello che si adatta anche al tuo stile di vita, quindi facciamo anche un analisi su noi stessi, su quello che vogliamo raggiungere, perché, questo Lorenzo, a me mi contattano tanti ragazzi che vanno in relazioni internazionali e mi dicono, io voglio fare la carriera diplomatica, poi ci vai a parlare e scopri che questi non hanno questa passione per andare all'estero, mettere tutta la vita sul precariato, quindi magari non è la carriera diplomatica quello che cerchi, magari guarda un lavoro più simile a te. Sono poi delle domande, sono arrivati le ragazze. Esatto, The Real Moccia ti chiede... The Real Moccia. A me piacciono molto le risorse umane, mi piacerebbe aprire un blog o un profilo in merito, ma come posso fare se non ho una minima esperienza? O meglio, quali sono i contenuti che posso diffondere? Questo dovresti essere tu che fai il social media manager. Qui ti posso rispondere, per aprire un blog, ovviamente sì, come ha detto Fabiana, non costa niente, in realtà costa, c'è una base di costo, è un costo basso, si parla di poche centinaia di euro e dipende ovviamente da quello che vuoi, però in generale un blog non costa tanto ed è un'ottima vetrina e che siano poche le visite o tante, è un'ottima vetrina per metterti in mostra, per accrescere le tue skills nella scrittura, per metterti in gioco e per far vedere che sei capace, è un modo tangibilissimo per far vedere agli altri che sei in grado di portare e scrivere dei contenuti. E per quanto riguarda il non avere esperienza, guarda, io questo progetto l'ho creato non perché ho esperienza, molta dell'esperienza me la sto facendo, anzi, penso che forse un 20% siano competenze che mi ha dato l'università, quindi io ti consiglio di buttarti, perché come dico sempre, ma Fabiana conferma, non hai nulla da perdere, hai solo da guadagnarci, male che vada hai imparato qualcosa, esatto, non per forza deve diventare un'azienda di successo, ma tutto, questa è una frase che io mi tatuerei, tutto fa curriculum, quindi non hai nulla da perdere, hai solo da imparare, da guadagnare, esatto, poi è una presenza online attendibile che puoi mettere sul tuo curriculum, quindi se ti vogliono cercare, ti cercano, ti trovano lì, ecco, non è assolutamente, questo me lo chiedono spesso, mi dicono, ma quando posso mettere qualcosa nel curriculum di progetti di divulgazione sui social, cioè quando, a che livello di successo, dico da subito, cioè non è che devi avere 10.000 follower per metterlo, non è che ti propongi ad un'agenzia, ecco, quindi da quando lo hai, se è curato, lo puoi mettere. D'accordissimo, e stanno arrivando un sacco di domande, non le seguo nemmeno, calma. Calma, no vabbè, io allora ne leggo una, ciao a tutti, volevo chiedere a Fabiana, se lei fosse al quinto anno di liceo linguistico, che facoltà sceglierebbe? Beh, non sono te, quello che posso dirti è che da qualsiasi liceo puoi scegliere qualsiasi università, e quindi questo tenete in mente, non è che se fai il liceo delle scienze sociali, devi andare a fare per forza scienze dell'educazione, ecco. Guarda, io ho fatto informatica, grande, per cui, siamo 600 nel corso, e siamo in due ad aver fatto informatica, in un corso di comunicazione, quindi anch'io mi esprimo a tal proposito, ti consiglio di, l'errore che fanno spesso molti studenti, ed era anche quello del mio caso, è di scegliere in base a quali sono le competenze più richieste, secondo me questo è sbagliatissimo, e l'ho capito solo quando ormai avevo deciso, bisogna scegliere in base alla propria passione, la passione ovviamente non è che la si possiede fin da subito, bisogna trovarla, bisogna scoprirla, il consiglio da parte mia per individuare la propria passione, è informarsi, informarsi, leggere in un ottimo modo ad esempio, e poi seguire la propria passione, se ti piace fare musica, studia musica, c'è questo concetto sbagliato in Italia, secondo me è molto diffuso, che si debba fare il lavoro che è richiesto, no, bisogna seguire la propria passione. Esatto, metterei poi anche un'aggiunta, anche capire quali sacrifici non vuoi fare, perché è giusto la passione, ma se io per dire, ho esigenza di lavorare in fretta, è inutile andare a prendere una facoltà lunghissima, nel senso, se mi piace il diritto, ma io voglio lavorare in fretta, magari non andrò a fare giurisprudenza, magari andrò a fare scienze giuridiche, che dopo tre anni riesco a lavorare, cerchiamo anche di capire un po' quali sono le nostre esigenze, perché poi le passioni a volte sono sì di guida, però a volte magari cozzano con quelli che sono altri nostri valori, se io non sono disposto a fare un lavoro che emotivamente mi prende troppo, non andrò a fare medicina, perché lì non vivo, quindi andrò a fare magari un'attività vicina, quindi uniamo, sacrifici e passioni, sacrifici e passioni, lo sappiamo tutti quello che non vogliamo fare, ecco, nessuno si vuole buttare dall'altra parte del muro, così, non tutti sono disposti nemmeno andare fuori sede, ecco, con questo lo aggiungerei. Tu quindi dall'ITIS, così hai fatto l'IgoLumma. Sì, vengo dall'ITIS, da un ITIS informatico, informatica non mi piaceva, io sono sempre stato portato per le materie umanistiche, meno per quelle scientifiche, tuttora infatti studio a fatica tutto ciò che ha dei numeri, ma sì, da un ITIS, il che è strano però, nel senso, io ho seguito proprio, io vabbè ho avuto anche la fortuna di avere dei genitori che mi hanno spinto a seguire le mie passioni, ma io la mia passione per la comunicazione non l'avevo, a me piaceva comunicare, sono uno molto comunicativo, ma non era passione, quindi l'ho scoperto poi, e devo dire, tristemente non mi ha aiutato a scoprirlo l'università, questo per marcare l'importanza di informarsi, leggere, questo è l'unico modo per capire, per scoprire una passione. sporcarsi le mani, anche... Succede quasi per caso spesso. Sì, però non bisogna nemmeno avere paura del fallimento, ecco, molti ragazzi hanno paura del fallimento, hanno paura anche di deludere i genitori, io questo lo vedo molto, nella tua generazione, nella generazione appunto Z, questa delusione dei genitori. Colpa della competitività, sempre che c'è, colpa o causa. Colpa o causa, però devi imparare che tu, la vita è la tua, tu cammini sulle tue gambe, le scelte sono le tue, quindi non sono i tuoi genitori a fare gli esami, non saranno i tuoi genitori a fare i colloqui di lavoro, quindi assumiamoci anche delle responsabilità, quindi questo sicuramente. Ci sono poi altre domande che mi chiedono anche, volevo chiederti, come hai visto l'esperienza scouting? Esatto, è molto interessante questa domanda, io non me la sono mai posta. Tu hai fatto lo scout? Io no, non l'ho mai fatto, però ti posso dire che a livello di curriculum viene vista benissimo, ma proprio tolto. come scrivere il curriculum ti dice proprio di mettere, se hai fatto il genere, volontariato, scoutismo, associazionismo, sicuramente. Sei scomparsa? Sei tornata? Ci sono? Sì, ci sono, non lo so, non lo so, non sono a Milano, quindi ogni tanto la fibra è quella che è. Negli ultimi tempi sembra che anche i social siano saturi di profili che raccontano di tutto e di più, nel curriculum spicca davvero, vale da pena investirci tempo. Ora, non mi fare come quello che ha detto, tu non devi dire alla gente di andare su TikTok perché TikTok è una perdita di tempo. Bisogna dedicarci, cioè nel senso ti deve piacere. Io i social non li faccio per dovere, cioè se dovessi farlo per dovere o per quanto ci guadagno, lo farei, cioè uno stipendio che vale ben più. Direi farlo con qualcosa che ti interessa, qualcosa che vuoi approfondire, soprattutto cercati uno stile, un tuo personaggio, cioè non ti limitare a dare le informazioni che si possono trovare altrove. Cerca di personalizzare, è un po' quello che faccio io. E io direi, aggiungerei anche non sforzarti, nel senso che non... Ci sono delle persone che usano i propri profili personali per condividere assiduamente contenuti lavorativi, ma non è una necessità. Cioè, e spesso viene fatto in modo... Io ho parlato con diverse persone che mi hanno detto che hanno iniziato a pubblicare contenuti diciamo professionali, contenuti di questo tipo, sui propri profili personali per esaltare gli occhi dell'azienda. In realtà non funziona proprio così, nel senso... Ha senso creare dei contenuti e condividerli. Però, penso sia anche importante dividere il profilo personale dal profilo professionale, diciamo. anche perché nel mio caso, ad esempio, è utile a me per avere uno svago. Diventare troppo inquadrati su ogni profilo, soprattutto in ambito personale, secondo me non è... No, di fatti, di fatti, ma lo condivido. Anch'io ho dovuto creare un profilo Instagram dedicato a quello che erano i miei contenuti su TikTok, perché sennò sarebbe stato veramente difficile condensare tutto in uno. che c'è? Vediamo un po'. No, mi chiedeva così. Giulia. Vediamo un po' cosa dice. Se uno studente si sente di essere multipotenziale e ha molte passioni che vorrebbe portare avanti, come fa a scegliere? Meglio, devi per forza scegliere. Su questo... Beh, un... Devi comunque scegliere quello che sono magari le tue priorità, come ho detto prima. Priorità, valori e sacrifici che non vuoi fare. Ti guidano appunto nella scelta. poi in realtà diventi come me, che appunto io faccio formazione e poi faccio divulgazione sui social, però appunto non sarei tenuto a farlo, ecco. O diciamo magari altre, diversi idee, ma stessa cosa quello che fa anche Lorenzo, fai il copywriter e fai divulgazione. Comunque appunto ti gestisci un po' il tuo tempo sulla base di quelle che sono appunto le tue priorità. Esatto. Su LinkedIn vedo diversi profili. Matteo, vedo diversi profili ottimizzati e molti un po' meno. Ho l'impressione che i profili meno curati performino meglio. Vi chiedo se l'avete notato anche voi che rispondo subito no. Il profilo meno curato rimarrà se... Cioè, allora, diciamo che il profilo che funziona meglio è ovviamente quello più curato per una serie di ovvie ragioni. I profili poco curati non solo performano peggio, ma sono anche visti peggio agli occhi degli utenti. Perché, insomma, è come uscire di casa vestito elegante ma con le scarpe di colore diverso. Cioè, vestito elegante con delle sneakers, con i lacci colorati in modo diverso. Cioè, uno ti guarda e dice boh, non lo so. E quindi questa metafora per dire quanto sia importante avere un profilo completo, aggiornato, costantemente aggiornato e questo per tutta questa serie di cose qua. Performa meglio e ti mette maggiormente il risalto. Non è facile avere un profilo ben aggiornato, però è fondamentale. Infatti. Però tu ci sei riuscito anche da studente quindi, quello che dicono se non... Sì, c'è un pian piano. Ci dovrei dedicare più tempo a LinkedIn. In realtà è un social che lascia un po' una parte rispetto agli altri, questo è vero. Poi chiedono lavoro a nero, sì o no nel curriculum? Ma questo del lavoro a nero me la chiedono sempre. L'avrà scritto opposta, spero. No, ma in realtà io quello che dico è che il lavoro in nero non è che nel curriculum ti chiedono la forma contrattuale, ti chiedono la competenza. Quindi se tu hai fatto delle collaborazioni, cioè per dire le ripetizioni, cioè chi fa ripetizioni, io ne ho visto uno che fa ripetizioni a contratto, ecco. Con la partita IVA. Cioè, presentatemi uno ma forse non so chi lavora alla CEPU se ancora esiste. No, per quello quanto mi riguarda mettete le attività, nel senso se avete fatto del lavoro a nero, io dico sempre indicatele come collaborazione con... Non scrivete ho lavorato in nero. No, ma non scrivete nemmeno la forma contrattuale. Io ho visto di curriculum dove mi indicavano la forma contrattuale, non so, mi dicevano contratto a tempo determinato, contratto a tempo indeterminato, dico no, ma nel senso non è che mi devi dare. Ma perché forse, perché in Italia è molto, è percepita come informazione molto importante secondo me questa del tipo di contratto, sai? Sì, però devo dire che sminuisce quelle che sono proprio le tue competenze perché comunque, cioè perché mi metti il contratto a tempo determinato primo livello del commercio, ho capito, lo so, se ti vuoi assumere ti farò poi una proposta relativamente a quello che è il livello tuo di inserimento, però togli spazio a quelle che sono informazioni rilevanti, quindi le competenze e le attività che tu hai svolto, quindi mettiamo quelle, per quelle in nero, ripeto, indichiamole come collaborazioni, metti appunto collaborazione presso, se non vuoi mettere l'azienda, metterai presso aziende locali specializzate nel, quello che è il settore, quello che facevi, oppure ripetizioni a ragazzi delle medie durante gli studi universitari. Esatto. Ne abbiamo un po', dobbiamo correre perché sennò si accumulano. Allora, Federico chiede, se non ho nessuna esperienza lavorativa, stagio di qualsiasi altro genere, come posso dare carattere al mio CV? Torniamo all'inizio, Fabiana, lo puoi ripetere volendo tu. Sì, nel senso, dai spessore ai tuoi studi, mettendo, non so, l'università, io sa mica hai dato, i progetti che hai svolto, il titolo della tesi, sei fatto l'Erasmus, sei fatto altre tipologie di attività. se non hai esperienze lavorative di nessun tipo, proprio non hai mai fatto nulla, allora punta su quelli che possono essere i tuoi interessi, quindi i tuoi hobby, nel senso, puoi mettere lì, sei partecipato a associazioni studentesche, lo scout, lo sport, danza, strumento, se hai una pagina personale, poi le lingue e i software sono importanti. Esatto, ne approfitto per dire che non devi preoccuparti se non hai esperienze, perché tutti all'inizio non hanno esperienze, quindi non preoccuparti. ovviamente l'esperienza si fa, per cui avrai occasione di farla. Intanto segnano il curriculum a quello che studi e dai risalto a quello che sai. Esattamente. Margherita, vorrei fare un incoraggiamento rispetto alle associazioni universitarie, sì, sono d'accordo con te, Margherita, perché anche secondo me le associazioni universitarie sono importanti, anche perché appunto, come hai detto tutti, permettono di fare molta esperienza. Però secondo me dovrebbero essere considerate maggiormente dalle università. Questo è il problema. Esatto, però posso dire che ISEC, per esempio, tra le associazioni più conoscite, se la mettete nel curriculum è molto, molto apprezzata dai recruiter, perché molti recruiter hanno fatto anche loro esperienze del genere. Sì, però ad esempio nel mio caso, in quella della mia università, è un po' complicato. C'è sempre questo conflitto con l'università, no? Non è facile. Secondo me sono delle associazioni molto importanti, quelle universitarie. Quindi, se hai occasione, prendi parte. Facoltà di design della comunicazione. Meglio continuare con la specialistica o fare un master? Questo dipende dove vuoi andare a lavorare. Io tendenzialmente ti direi un master oppure andare a lavorare direttamente. Cioè, tutte le facoltà inerenti a design, comunicazione, non hanno bisogno di magistrale. Questo lo dico proprio papali e papali e me ne assumono la responsabilità di quello che dico. Serve la pratica, sporcarsi le mani. Meglio andare a fare uno stagio con una triennale in un'agenzia di comunicazione o meglio fare un master. La magistrale comunicazione aggiunge ben poco. Non lo so, poi tu se vuoi aggiungere o contraddirmi. Sono d'accordissimo. Ciao a tutti. Sono d'accordissimo. Infatti, salutiamo tutti. Siete sempre tantissimi, quindi grazie e ci state sommergendo di domande per cui cercherò di farle accorpandole. Sennò diventa una sessione di Q&A. E comunque no, sono d'accordo. Comunicazione da poco, soprattutto se è scienze della comunicazione. Io non la volevo assolutamente fare perché è un'infarinatura generica che lascia pochissimo ed è molto astratta. quindi consiglio anch'io di fare o un master o una magistrale. Sì, è molto importante. O fare esperienza, ovviamente, che l'esperienza alla fine, ricordiamolo, vale come se non più di una magistrale spesso. Dipende ovviamente dal tipo di esperienza. Non so se tu, Fabiana, confermi o hai un'idea diversa. No, no, assolutamente confermo. L'esperienza vale tantissimo. Diciamo che differenza tra fare uno stage e fare un master però nell'esperienza di stage devi essere tu bravo a raccogliere gli stimoli perché se entri magari in un'azienda vedrai il tuo quadratino di attività quindi è difficile capire tutta la filiera del lavoro che ti sta intorno. Non so, vai a fare social media manager per appunto un'azienda vedi solo magari post che ti dicono di caricare, applaudare. Non capisci proprio tutto quello che c'è intorno come inquadrati in una strategia di marketing. Se fai un master di solito invece viene esposto a uno spettro molto più ampio quindi impari a fare dei progetti dalla Z simulando quelle che sono attività aziendali quindi come dire scegli con maggiore consapevolezza poi anche dove andare poi a fare lo stage ecco diciamo la grande differenza. C'è una domanda che chiedono tu come hai trovato i primissimi clienti? Perché nel senso qui Lorenzo tu lavori come copywriter freelance vogliono sapere il segreto del tuo successo? Sì, vogliono sapere il segreto del tuo successo? Io facendo personal branding nel senso io non sono partito con l'idea di offrire dei servizi io sono partito con l'idea di mettere in mostra quello che posso dare e le mie competenze facendolo quindi facendo personal branding le aziende prima o poi o i liberi professionisti comunque le persone gli utenti ti notano e la bravura sta nel nel sapersi far riconoscere come professionista all'interno del settore in cui operi quindi non ci sono segreti non ci sono formule just personal branding esatto è tutto perché tu mi hai chiamato perché io sono l'unica al mondo che fa questo lavoro no perché sono sui social quindi sono riconoscibile è tutto qua esattamente comunque una domanda molto interessante è che tipi no aspetta oddio l'ho persa che tipi di competenze informatiche sono importanti da inserire nel CV dipende dal ruolo è chiaro diciamo qui non è che mi voglio sbilanciare però diciamo tendenzialmente per un ruolo marketing comunicazione relazioni esterne sono appunto Excel Uber All adesso imparate Excel perché Excel è qualcosa che stracercano PowerPoint e poi ecco dipende cioè strumenti di cui possono essere di suite Adobe nel caso appunto tu vada in un'agenzia o linguaggi di programmazione se tu puoi andare poi nell'analisi di dati quindi attività più analitiche adesso chiedono molto Python per dire anche nel marketing quello un pochino più analitico ecco per analizzare i dati per vedere le scelte del consumatore e una domanda che è stata posta spesso dai nostri utenti adesso me la perdo sempre allora innanzitutto la prima di fra di ha senso ora fare uno stage in remoto in smart working nel campo del digital marketing secondo me sì anzi digital marketing secondo me dà anche più ridevanza il fatto che sì ora lo dico dal mio punto di vista ignorante però il fatto che sia in smart working richiede che tu abbia la capacità una certa capacità di dividerti il lavoro e di gestirti i tempi e rispettare le deadlines quindi secondo me sì ma poi ripeto il digitale è qui è qui davanti a noi lo strumento quindi in smart c'è per natura ma questo lo posso dire veramente avendo seguito poi i placement dei master che appunto gestisco e i settori del digital non si è mai fermato nemmeno a marzo aprile quando c'è il lockdown totale le aziende comunque continuano a lavorare cercare stagisti quindi sì digitale a tutti gli effetti soprattutto se è una laurea umanistica ecco perché è molto apprezzata le lauree umanistiche per tutto l'ambito del digitale quello più meno diciamo programmazione più contenuti analisi dati gestione di quella che può essere le campagne online e invece è importante chiede Laura fare segnare nel curriculum uno stage retribuito o no fatto in attesa di iniziare una magistrale ma no non dovete mettere se è uno stage retribuito o meno non dovete mettere nemmeno l'addizione stage si mette quella che è la qualifica non so assistente contabilità junior copywriter perché tanto quello che interessa ripeto le esperienze le competenze quello che è andata a rivendere non è andata a rivendere il rimborso spese o appunto la formula contrattuale almeno alle prime esperienze comunque ciao a tutti di nuovo ciao 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 ma no veramente le dirette con te sembra di stare su tiktok che ti veramente pescano di domanda io non lo so non sono abituato a tutte queste persone quindi mi fa molto piacere qua c'è una domanda per fare il simbolino master gratuito in scandinavia o privato in italia nel pubblico non sapevo fosse gratuito in scandinavia oddio se c'è gratis in scandinavia andrei in scandinavia ecco impari anche un ottimo inglese il tempo è un po' quello che è caldo possiamo parlarne però però sei gratis comunque è un'esperienza caspita molto rilievo e allora io concluderei con questa domanda per poi ritornare sul focus iniziale se no ci perdiamo c'è veramente di tutto no fate benissimo fate benissimo a farci domande però cerchiamo perché se no diventa faticoso però potremmo farlo un Q&A dedicato cioè tu dovresti farlo in realtà io ne so meno di terzo no io ci ho pensato in realtà lo faccio su tiktok perché lì c'è molto più di solito su instagram le persone scrivono meno su tiktok ti imperversano è vero ciao Sara allora ciao a tutti come sono viste le autocandidature per uno stage benissimo una persona che si candida autonomamente io ho trovato lavoro sempre per autocandidature quindi posso dirlo è possibile fare uno stage prima della triennale sempre nel campo del digital e del social media marketing certo meglio ma guardate più giovani si è meglio è cioè questo è veramente una cosa che uno deve capire che non si è mai abbastanza giovani per iniziare a lavorare più si è giovane più le aziende fanno come dire scontano sono più comprensive sulla cune cioè piccolino quindi veramente non aspettate di essere formati 28 anni per fare il primo stage 21 22 l'età giusta primo stage ha con una ddd trascendentale senza fretta e bene allora ce l'abbiamo fatta e io quello che volevo chiederti che è poi il tema caldo di cui poi abbiamo parlato anche l'altro giorno oggi quanto è importante cioè quanto è importante portare avanti dei progetti, fare qualcosa mentre si studia, lo sappiamo l'abbiamo già detto più volte, ma cosa si intende con fare, fare dei progetti? Perché quando ne ho parlato l'altro giorno, quando ne abbiamo parlato, abbiamo fatto lo scambio sui nostri profili privati molte persone mi hanno scritto e mi hanno chiesto, ma fare in che senso? Cioè perché tante persone effettivamente sono in difficoltà perché dipende ovviamente da quello che studi ma certe persone dipende, cioè certe persone studiano materie molto astratte, quindi diventa difficile fare qualcosa di inerente qual è il tuo consiglio? Allora, su quello è chiaro, cercare dal punto di vista dei propri studi, cercare qualcosa che ti possa comunque completare a livello di interessi io dico sempre seguite questi interessi dopodiché, è chiaro, ci sono delle lauree medicina dove veramente tu devi dedicare tutto il tuo tempo a quello che è lo studio e i laboratori quindi in quel caso nelle lauree scientifiche tecniche si può fare nel senso quello che voglio dire magari approfondire certi ambiti che ci interessano ancora di più mi diceva oggi parlavo con un ragazzo avevo fatto una considerazione sul ragazzo laureato in chimica lui mi diceva guarda io sto adesso seguendo per dire un corso di chimica cosmetica la specialistica non nel mio corso non lo sto intanto seguendo perché mi interessa quindi anche iniziare a fare una formazione ulteriore fare diciamo attività anche di associazionismo per quanto riguarda poi le singole materie c'era una ragazza che mi aveva scritto sempre durante dopo il nostro scambio laureato in giro Io collaboro pro bono per un'associazione che dà supporto legale a quelle che sono appunto minoranze e migrati quindi faccio diciamo questa attività pro bono anche quello diciamo può essere qualcosa che ci insegna come stare con il pubblico a svolgere anche la nostra professione quindi capire sulla base di quelle che sono una delle nostre priorità due i nostri interessi e tre anche cosa vogliamo realizzare fare non è anche per il fare non è che se io faccio la babysitter faccio la cameriera vuol dire che sono una buona nulla anche quello può aiutarci a far qualcosa io il mio quello che volevo dire che alcuni hanno capito male è che quando arrivano quei curricula dove tu vedi laurea per ipotesi vedi che sei nato in un posto hai studiato nel posto accanto non hai mai lavorato non sei mai stato all'estero non si capisce quelli che sono i tuoi interessi quello sembra un curriculum dici ma questo che ha fatto c'è niente è stato lì ha studiato ha fatto il compitino e vi giuro ne arrivano ora fermo restando le motivazioni della scelta di un ateneo vicino casa anche io ho fatto l'ateneo vicino casa perché a me non potevano mantenermi fuori sede però se io vedo un curriculum non c'è nulla un interesse un corso un qualsiasi tipo di attività anche andare a fare veramente il rider o andare comunque a fare comunque delle attività svolontariato veramente perdi di significato il tuo curriculum diventa uno tra i tanti diventa veramente sostituibile dal primo curriculum che io prendo dalla pila che ti segue quindi è questo che volevo far capire cerchiamo di sporcarci anche le mani darci da fare e esporci anche noi alle attività non facciamo fare i nostri genitori ecco non importa se tu prendi 110 lode ma come mi ha scritto una ragazza ancora la mamma ti prepara il pranzo pronto quando torni dall'università ora nulla di male per questo però se ancora pensiamo di essere alle medie di essere alle elementari di chiedere ai nostri genitori il permesso di fare tutto o che loro devono decidere cosa fare no chiudo dicendo un piccolo episodio anche abbastanza umoristico io lavoro nei master ancora mi succede che mi chiamano i genitori di ragazzi di 25-26 anni e mi dicono io a mio figlio io vorrei far fare un master il genitore per uno di 25 anni chiama più di una ma è vero è vero chiamano e dicono io vorrei fare un master a mio figlio quanti anni ha il suo figlio 25 dico ma perché allora non fa chiamare a suo figlio io dico sempre ma faccia chiamare il suo figlio faccia fare il colloquio a suo figlio no ma io intanto sono io che pago ho capito ma cioè non è che è un pacco postale volevo fargli fare un master comunque rispondo anche ad Alessia la diretta verrà pubblicata sul profilo sì la metteremo sui GTV quindi sarà sempre fruibile per tutti voi gratuitamente mentre Ilaria chiede se voglio fare la giornalista cosa dovrei fare studiare o comunicazione o giornalismo o lettere ma nemmeno cioè giornalismo in realtà è una a parte che è una professione che io attualmente mi sento anche di sconsigliare per l'altissima precarietà di alluolo nel senso che più che giornalismo adesso candidata a fare il content editor c'è la persona specializzata nel produrre contenuti per vari canali o il freelance o il freelance sì giornalismo devi iniziare ad avere delle collaborazioni quanto prima possibile con le attività cioè con le testate anche online sviluppare un tuo stile e poi iniziare a cercare delle collaborazioni poi se vuoi diventare giornalista professionista giornalista televisivo ci sono le scuole di giornalismo davanti al Vartetto Baggi o la scuola di radiogiornalismo di Perugia che possono aiutarti oppure ci sono dei corsi di giornalismo però ripeto è una carriera molto precaria non aspettatevi il giornalista di 50 anni fa ecco Andrea chiede lui è uno studente lavoratore come ce ne saranno sicuramente tanti altri qua tra noi oltretutto ti saluto perché è mio compagno di corso a volte ho l'impressione che le istituzioni non ci aiutino a conciliare entrambe le cose lavoro e studio che ne pensiamo che ne pensi sì vabbè allora come dicevo prima quando fai degli studi scientifici medicina chimica infermeristica che hai laboratori tirocini lì è normale ma è un lavoro diverso dove la pratica già la trovi integrata nello studio a volte succede che l'università anche con gli orari non ti aiuti a conciliare perché ti mette le lezioni quando erano in presenza in tre sedi diverse ai tre lati della città oppure ti dà orari stranissimi tutti inframenzati che non ti consentono di fare delle attività però ripeto se si tratta poi di progetti online di ripetizioni quelli si possono fare veramente a distanza si possono organizzare anche in maniera abbastanza flessibile poi ci sta la volontà e quindi su questo metto una mano sul cuore sulle persone non è facile fare i contenuti online cioè io io stesso lo riconosco che spendo tanto tempo su questo però cerco di organizzarmi se uno si organizza secondo me si riesce a trovare una quadra bisogna trovare posso confermarlo io ci dedico veramente tanto tempo bisogna trovare un equilibrio e bisogna soprattutto trovare uno spazio di tempo da dedicare a questa attività perché è molto importante oddio non riesco a leggere ma le varie attività fatte per esempio volontariato cameriera promoter babysitter come dobbiamo inserire in ACV nella parte che riguarda le esperienze quindi inserire da inizio e fine oppure si aggiungono descrizioni allora questo lo dico tante volte io dovrei fare tipo delle FAQ adesso le farò ma guarda queste metti in una sezione che puoi chiamare esperienze lavorativi o altre attività cioè non sono le esperienze quelle che ti professionalizzano e io la metterei in maniera accorpata durante gli studi ho sempre lavorato svolgendo attività di babysitter volontariaggio promoter per strutture locali punto poi lo racconti casomai al curriculum non dobbiamo mettere inizio fine a meno che tu non ti voglia candidare per fare la babysitter ecco il driver è tutta la posizione alla quale ti candidi che fa decidere la rilevanza dei contenuti che poi mi è venuto ma le borse di studio per merito mi si erano aggiornate oddio ce ne sono altre aiuto sì ma le borse di studio per merito che danno l'università vanno inserite nel CV se vuoi le puoi mettere vincitore di borse di studio per merito per tre anni di seguito fai un dottorato di ricerca e dici dottorato di ricerca con borse di studio per merito per tre anni non è che ti cambiano la vita però sempre un plauso è comunque secondo me rispondo anche a una domanda a cui non abbiamo risposto prima ma ci colleghiamo a questa di Francesca la dual degree ha senso secondo me sì penso anche secondo te cioè sì sì ma poi devo dire che negli ultimi anni si è molto diffuso il double degree prima era appannaggio solamente nelle università private tipo Bocconi adesso invece è molto diffuso anche nelle pubbliche secondo me è un ottimo modo per assicurarsi un periodo lungo all'estero e anche in strutture universitarie tipo nel nord nel nord Europa con livelli anche elevati comunque in tutto il mondo anche il dottorato e non costa sì il dottorato non va il dottorato sì è un ottimo percorso cioè l'ho fatto io quindi lo ne parlo è molto molto di ricerca sì ma è poco allora i dottorati umanistici sono belli perché ti pagano per ricercare cioè io prendevo mille euro al mese per fare ricerca su quello che mi piacevo sono stata in Giappone e prendevo 1500 euro al mese cioè ci penso adesso con uno stipendio io ero lì e gestivo il mio tempo come mi pareva però è un po' fine a se stesso comunque ti apre una carriera tanto precaria non lo so dipende che priorità hai se vuoi un lavoro più sicuro più inquadrato il dottorato oddio cioè poi la carriera accademica a me in Italia è una corsa ostacoli comunque mi è venuta in mente stavo dicendo una domanda che mi è stata molto posta l'altro giorno ossia adesso te la dico perché me l'ero pure scritta come come si può convincere una persona che è alienata dallo studio ce ne sono molte anche che conosco che studiano e basta che è alienata dallo studio diciamo alienata dallo studio molto marxista come la si può spronare a fare qualcosa che vada oltre l'università o che vada comunque in generale oltre allo studio perché è difficile comunque mi sono reso conto è molto difficile convincere queste persone anche perché c'è sempre la paura di fare di buttarsi quindi come si può spronare ti ringrazio Lorenzo perché tu mi hai detto non ti farò le domande solite questa è una domanda che non mi hanno fatto mai è ottima allora secondo me si può spronare allora se una persona ama studiare bisognerebbe spronarla anche a condividere quello che studia quindi magari iniziare anche a fare delle ripetizioni iniziare anche a fare a scrivere anche qualcosa su quello che appunto sta studiando cioè non solo tienilo per te ma impara anche a darlo ad altri impara anche a condividere con gli altri in questo caso metterai quello che tu sai su un piano diverso un piano sicuramente più tangibile più intelligibile più comprensibile l'altra cosa è quella di ma quello che studi ha un riscontro pratico un precipitato concreto cioè tutte le lauree e secondo me tutti gli studi dovremmo farci questo ragionamento cioè non si studiano le lingue per le lingue cioè sì per cultura generale d'accordo però se studi lingue dovresti capire queste lingue visto che sono uno strumento non mi danno una professionalità di finita cosa voglio farci e da lì secondo me già aiuti la persona a indirizzare il suo studio verso qualcosa che dà comunque uno sbocco pratico perché se no il problema dello studio è che rimane sempre lì in alto e non termina mai è un lavoro che non dà mai frutti sembra invece quando lavori in ufficio insomma lavori in azienda la cosa bella del lavoro quella che a me ha fatto rinasce tra virgolette è che il frutto del tuo lavoro lo vedi in fretta quindi è molto più gratificante secondo me il lavoro dello studio in sé per sé e poi la vera domanda la vera domanda è che si chiedono poi molti quanto le aziende guardano l'esperienza ad esempio i progetti personali cioè vengono più vengono guardate di più le esperienze formative o le esperienze professionali ma non in azienda cioè ad esempio nel mio caso per esempio nel mio caso portare avanti un progetto come questo quanto hanno rilievo? io guardo io quando mi arrivano quando cioè io veramente sono specializzata in profili giovani perché chi si attaccia a un master di solito non ha mai lavorato di solito io guardo tantissimo questo questi aspetti i progetti personali avere una pagina ma anche mi piace che le persone mi raccontino c'era una ragazza che aveva fatto una selezione per il master e mi ha detto che aveva aperto un canale tiktok dedicato all'avocado e beh mi piaceva proprio che mi raccontasse l'idea alla base di questo cioè soprattutto perché cioè non c'è non è qualcosa di banale è qualcosa in cui devi ragionare quindi sì ripeto i progetti è quelli che danno la linfa che danno comunque vita al vostro curriculum solamente se siete molto giovani ripeto non serve fare smart talks che comunque è un progetto di successo potete fare anche qualcosa di piccolo anche qualcosa a livello proprio locale qualcosa anche a livello di volontariato a livello di impatto sociale è molto bello vedere questo in ragazzi giovani soprattutto perché li vedi anche molto più affamati di sapere di imparare di comunque di essere pronti a buttare una cosa che le aziende temono molto quando selezionano un candidato giovane che non ha esperienza è quello di sbagliarsi cioè di trovare un candidato che non ha che non ha in mente cosa andrà a fare e che dopo magari due mesi dice no questo non è il lavoro che fa per me e se ne va per le aziende questo è uno spreco di tempo e di denaro perché tu stai selezionato e stai formando una risorsa quindi già vedere in un curriculum delle indicazioni verso un certo tipo di attività ti facilita anche il processo di selezione piuttosto quando invece non vedi nulla di nulla e lì devi andare molto a tentoni e ripeto è un rischio che le aziende corrono ma che eviterebbero molto volentieri Sì mi rivedo molto in quello che hai detto anche noi quando guardiamo i curriculum che ci arrivano diamo molto più risalto non perché non ci interessi sia chiaro ma diamo molto più risalto alle esperienze professionali e abbiamo notato io ho notato soprattutto personalmente che persone che hanno lauree o master ma che non hanno esperienze professionali magari sanno più cosa a livello teorico ma poi sul pratico che è quello che conta alla fine sono spesso carenti esatto esattamente questo ancora di più per per evidenziare l'importanza delle esperienze volevo aggiungere giusto una cosa anche il voto di laurea non è un indicatore di qualità del profilo molto spesso le aziende non lo chiedono 110 lode ci sono aziende che ti chiedono con quanto sei uscito no ma poche cioè giusto la consulenza le banche la posta cioè queste aziende un pochino più come dire formali non lo chiedono ma non lo vedono cioè io per dire ti posso dire di tante persone che ho visto laureate con 95 che erano molto più brillanti di 110 lode ma non per forza poi non per forza 95 cioè siamo sempre lì io sono dell'idea che poi non so se sei d'accordo io ho una filosofia e perseguo questa filosofia che è dare il massimo cioè dare il massimo sì impegnarsi il più possibile e prendere quello che si riceve per quanto ci sia impegnati quindi se io arrivo a un esame e mi capita di prendere 20 l'importante è che io mi sia impegnato dando il massimo perché il voto è un numero comunque esatto e sul mondo del lavoro le aziende io lo dico per esperienza mia ma te lo sai sicuramente più di me le aziende guardano quello che tu puoi dare loro guardano il potenziale cioè quando si seleziona una persona è proprio persona giovane il potenziale non è quello che una fatto è quello che può anche dare ecco perché ripeto tutto si collega al discorso degli hobby degli interessi cioè tu cerchi di capire la persona com'è come attitudini e su quelle attitudini puoi far nascere una formazione verso un certo tipo di carriera è molto delicata la selezione del profilo giovane è molto più difficile anche del profilo quello schillato perché quello vai con l'esperienza ti racconta i progetti vai una botte di ferro ho fatto questi risultati è posto quindi falli anche da noi non giovani no secondo me quello giovane è molto più attitudinale la valutazione è molto più attitudinale esatto e anche certe volte anche come ti dicevo anche più lunga uno se sembra strano per uno stage tu puoi fare anche fino a 3-4 colloqui molto più lunga come selezione rispetto magari a persone apicali che vengono non c'è nemmeno una selezione ci sono una chiacchierata e vedi appunto quella persona appunto la porti a bordo comunque interruzione per una comunicazione di servizio io ricordo mi è stato appena comunicato che le live durano un'ora quindi se si interrompe male non so se te sei d'accordo possiamo finire con un piccolo Q&A se si interrompe perché tra 6 minuti dovrebbe toccarsi ti dovrebbe apparire un countdown per fortuna che finiscono dopo un'ora perché se no andrebbe a parlare all'infinito se sei d'accordo possiamo fare 10 minuti di extra esatto dopo liberami se no mio marito mi chiede il divorzio perché tutt'oggi che sto facendo consulenze scrivo post mi dice tu non ci sei mai questo è il dramma di quando hai anche una famiglia immagino Laura allora innanzitutto Jessica è uno username che non so pronunciare sono d'accordo con noi il voto non fa la persona siamo d'accordo mentre Laura ci chiede quali sono i paesi e questa era una domanda che volevo farti perché mi è stata apposta molto ma io non lo so come te quali sono i paesi più consigliati per un master in digital o in marketing guarda con estrema sicurezza ti dico l'Irlanda in Irlanda Dublina ci sono tutte le tech company è bellissimo andare a fare una visita a Dublino nella zona del porto perché sono tutti una dietro l'altra e l'Olanda paesi bassi soprattutto l'Olanda ha tutte le università di applied science che costano poco cioè costano nell'ordine di 4.000 euro l'anno e offrono anche un ottimo placement per dire Endoven è una cittadina olandese che ha tipo HTC Philips lì e accanto all'università quindi ha un contatto diretto aggiungo che in Olanda impari un ottimo inglese europeo oltre che essere un bel paese sì infatti oggettivamente sì poi non costano molto e poi come cittadino europeo ha gli stessi vantaggi di essere in Italia sì stavo dicendo ho interrotto un secondo perché stanno iniziando a sparare i botti già adesso qui madonna i botti io sono in un paesino in cui praticamente secondo me già a mezz'anno quando gli dici andranno a letto quindi stasera veramente perdere allora io volevo fare una domanda riguardante gli stage questa mi interessa molto e secondo me è interessantissima saprai sicuramente che l'Unione Europea ha formulato una nota ha rilasciato una nota in cui affermava che è sbagliato sostanzialmente la faccio molto semplice assumere degli stagisti senza pagarli ovviamente questo è una comunicazione europea quindi non è obbligatorio per ogni stage è un'indicazione esatto ma secondo te questa indicazione avrà seriamente impatto cioè in Italia arriveremo veramente come spesso accade all'estero a pagare gli stagisti a pagare il gusto ma comunque a pagare perché comunque l'azienda fa business con il tuo lavoro gratuitamente e prende pure soldi dallo Stato o dagli incentivi sì allora metterei un pochino un distinguo tra le varie situazioni nel senso lo stage quello curricolare base tipo alternanza scuola-lavoro comunque il primo stage quando tu devi essere formato da zero quello secondo me è giusto che sia gratuito semplicemente perché l'azienda comunque investe del tempo per seguirti e formarti no certo distinguiamo io intendevo lo stage sì lo stage per dire uno stage post-universitario nel senso tu sei laureato e cerchi lavoro e il posto del lavoro ti propongono uno stage quello giustamente secondo me deve essere retribuito perché lì è un lavoro in cui tu comunque fornisce anche un'operatività fornisce un sopporto da lì ci sono poi è chiaro una dovuta spettro di possibilità ecco non sono d'accordo con gli stage attribuiti solo con i rimborsi con i buoni pasto con il biglietto del ATM quelli di Milano ma anche lì uno stipendio è difficile averlo perché comunque parli di attività che all'inizio sono difficilmente quantificabili quindi c'è sempre una parte di formazione una parte di mancanza di autonomia quindi all'inizio è normale che non ci sia rimborso spese quello che io non sopporto è il marciare su questa formula cioè d'accordo fare i primi sei mesi di formazione di banco di prova però quello di fare il sei mesi più sei che quindi arriva un anno e poi un anno prendiamo un altro stagista no e lo fanno in tanti perché comunque lo stagista è qualcuno che formi è qualcuno che ti aiuta è qualcuno che ti porta valore aggiunto fare questo turnover di stagisti anno dopo anno ti porta solo in un po' diventato della funzione cioè tu hai comunque persone che devi sempre formare ma vanno a finire non si sa dove detto questo la questione del rimborso spese come scegliere uno stage su quello non mi vorrei sbilanciare però ti direi non scegliere uno stage in base esclusivamente al rimborso spese cioè non scegliere lo stage che ti dà un rimborso spese più cospicuo ma scegliere lo stage che ti dà l'esperienza formativa più completa perché è quello che andrei a rivendere successivamente questo io lo dico a tutti i ragazzi che fanno i master da me ma è strano sembra quasi che dici dove scegliere lo stage che mi paga di meno se ti dà un'esperienza formativa più completa più valida più comunque di spessore tu la rivendi meglio se no hai un nome importante ma dentro il nome non hai nulla questo per l'inizio poi il lavoro va pagato e ricordatevi ragazzi che l'azienda tenderà sempre a pagarvi di meno quindi informatevi sui livelli contrattuali quando vi inseriscono perché ti iniziano a sparare d'accordo ti inseriamo al quarto livello del commercio tu vuoi vedere che il quarto livello del commercio è quello del bancorista della macelleria quando tu fai un lavoro impiegatizio quindi dovresti avere un secondo livello informiamoci anche sui livelli contrattuali perché ci giocano tanto comunque la live si sta per interrompere per cui se ci interrompiamo male c'era Elena Maria Cito che ha detto no con l'aggiornamento in teoria non hanno scadenza grazie guarda io ci lavoro con i social ma mi hai aperto un mondo allora perfetto possiamo rimanere altri dieci minuti altri dieci minuti diciotto e dieci sì dai dopo entrerà mio marito mi prenderà mi dirà basta di stare sui social porca miseria fai un'età c'hai 40 anni allora dai domande allora allora sì fateci le ultime domande fatele in realtà io sono solo il tramite allora master telematico in data science io no è di sempre unicusano io con i master telematici cioè le università telematiche sì ci sono quelle tipo uninettuno unimarconi unicusano che sono buone ma di solito io se dico io conosco solo unipegaso non conoscevo unimatoni sì allora non me lo far dire però unipegaso no ma io avevo già il mio pensiero che era no allora però sono pronto a ricredermi sì no allora le università telematiche sono ottime se lavori full time hai bisogno della laurea o dei crediti formativi per andare a insegnare o per i concorsi pubblici però io dico sempre ancora siamo un livello ancora perché che l'università telematica è ancora poco credibile soprattutto su certi su certi settori se vai a fare una laurea telematica in giurisprudenza a Milano agli studi ti prendono tutte le porte in faccia cioè è ancora poco credibile purtroppo ancora abbiamo questo bias mentale quindi scegliete magari un'università pubblica che ti dà un titolo più riconosciuto questo almeno mio pensiero opinione personale vediamo un po' una domanda per noi che bello sono ancora aperte le posizioni per allargare il vostro team siamo sempre aperti e anzi vorremmo allargarci sempre di più io lo consiglio guarda quando mi dicono dove posso andare a fare pratica per scrivere per gestire quelle che possono essere contenute in un blog in un sito dico dai smart talks questa è una cosa molto bella e ti ringrazio molto no mi fa veramente tanto piacere noi sì siamo sempre aperti al momento siamo più di 30 siamo una bella famigliola felice stiamo bene insieme nonostante veniamo da diverse città d'italia siamo tutti distanti tutti in remoto però lavoriamo bene e facciamo esperienza che è quello per cui poi andiamo avanti e per passione per cui se vuoi sì assolutamente sempre aperti allora minor di cafoscari cafoscari conosco poco questa cosa del minor ma immagino che sia come il major e minor io non ho idea quindi cafoscari top cafoscari piace un sacco soprattutto il studio delle lingue li unisce sempre a un taglio economico aziendale commerciale minor penso che siano dei percorsi che tu puoi aggiungere non so a piacimento tipo major e minor americani quindi li aggiungi alla tua laurea quindi sì li puoi mettere nella formazione tra sotto la laurea puoi mettere tra gli esami sostenuti anche esami non so di economia aziendale di gestione per appunto corroborare la tua parte economica nel curriculum vediamo un po' vediamo un po' c'era un commento che diceva ho un'età elevata che tipo di stage posso ambire in ambito marketing è un'età elevata che vuol dire adesso se mi esce con un'età elevata che ha 25 anni mi sento male secondo me non c'è un'età un'età diciamo che lo stage in Italia è under 30 per le aziende è under 30 per il marketing tendenzialmente l'età è ancora più bassa perché se vai nel marketing e l'arro consumo lo stage in marketing è giovane giovane vuol dire sotto i 25 anni altre aziende PMI magari ci si può ragionare però tendenzialmente under 30 per il marketing non c'è limite al lavoro sì no io ti dico quello che dico da proletario sfruttatore non c'è limite allora Carmela ci chiede oddio ci chiede cosa facciamo in che senso nel senso più ampio del termine secondo me però quando finirà la diretta tra poco potrai andartela a vedere su IGTV e dopo penso un minuto lo diciamo se no dobbiamo ricominciare da capo e chi ci sta ascoltando poverino ci molla esatto non ci sono altre domande? ne abbiamo risposto agenzie agenzie Emilia azienda start up quale ti offre la formazione completa all'inizio della carriera? non so dove vuoi andare a lavorare però io veramente sponsorizzo tanto per chi vuole lavorare nel digital le agenzie Emilia a Milano Gruppem Dance Wedges Publisys offrono stage ti formano è un bellissimo ambiente poi sono carriera abbastanza sicura io ho gente che da Publisys è andata a lavorare poi in Vodafone Publisys ti apre un sacco di di cose Publisys a Milano o Gruppem Groupem Dance Wedges Dance Wedges io non le conoscevo le ho conosciute da quando ho iniziato a lavorare nei master top c'è tanta formazione chiedono tanti devo dire a tal proposito spezzo una lancia per in favore di Publicis che io non la conosco di persona ma conosco chi ci sta dentro e la cosa figa che penso poi riguardi un po' tutte le agenzie chi più chi meno è che entri direttamente a contatto con professionisti con con persone grosse all'interno delle aziende e lavori insieme a loro e non è che lavori in modo distaccato no ma si lavora con una certa sinergia quindi è molto bello per imparare secondo me è ottimo sì lo consiglio post università post triennale hanno sempre posizioni aperte è bello assolutamente non hanno troppe pretesi in entrata ecco non è la Vodafone che magari ti trova il pelo nell'uovo per assumerti in stage questa domanda invece che ci fa Mad Marini ci è arrivata due volte il call center come hai visto? ma sì è normale un lavoro dignitoso magari non sarà l'esperienza professionizzante della tua vita però è sempre un lavoro che puoi mettere che comunque puoi far capire che hai lavorato anche durante gli studi io avevo un ragazzo che addirittura nel curriculum aveva scritto che aveva fatto l'imbianchino e mi aveva anche declinato le varie attività quindi la tinteggiatura il ripasso la frisatura cioè l'imbianchino aveva messo però le esperienze che fate è che poi dipende da per cosa ti candidi ovviamente ogni lavoro è dignitoso cioè ogni lavoro lecito è dignitoso cioè quello che non abbiamo detto quello che non abbiamo detto che secondo me è importante dire è che il curriculum va adattato in base alla posizione per cui ci si candida esatto e quello sì non mandate i curriculum generici con l'idea tanto il recruiter poi farà l'interpretazione di quello che ha scritto no il recruiter non pensa il recruiter vuol leggere quello che è in mente relativo alla posizione quindi facilitate questo lo dico sempre 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 dovete facilitare la lettura al recruiter dovete dargli le informazioni che si aspetta di trovare relativamente a quella posizione quindi personalizzate non mandatemi il curriculum euro pass quello generico perché a me non interessa il report della vostra vita interessano quelle poche cose relative a quella posizione per la quale sta cercando una persona non è giusto non è bene dimmi questa è una cosa curiosa che hai detto ma che mi hanno sempre detto tutti che ho seguito anch'io perché io il curriculum all'inizio era in euro passa ai tempi delle superiori consigliavano quello poi ho scoperto che in realtà è odiato ma perché allora il curriculum europeo il curriculum europeo nasce perché non ci piace l'Italia a euro pass ma no ma non piace da nessuno perché è leggibile è un report è qualcosa di assolutamente impersonale allora euro pass è nato con l'idea di dare uno strumento diciamo che potesse rispondere alle esigenze di curriculum di qualsiasi profilo quindi dal ragazzino delle scuole medie al professionista quindi come vedi ha tantissime sezioni anche capacità artistiche organizzative personali però il curriculum non è un report non è un'autocertificazione il curriculum è un biglietto da visita quindi è un strumento strategico di presentazione quindi tu devi mettere poche informazioni mirate relativamente a quella posizione quindi è quello lo sforzo che bisogna fare bisogna mettersi nella testa dell'altro e dargli appunto le informazioni che desidera euro pass io non lo consiglio solo se espressamente consigliato se richiesto o nel pubblico ecco te lo chiedono la mia domanda era un po' una provocazione appunto per farti dire questo perché l'errore che compiono molti e che ho compiuto anch'io fino a nemmeno troppo tempo fa era di avere il curriculum informatore poi mi chiedono quale modello di cv allora io canva.com che adesso me lo farò tatuare qui anche io ce l'ho anche io ho usato canva validi oppure c'è anche word per dire pages del mac hanno dei modelli comunque abbastanza carini sintetici impaginati appunto in una sola facciata fatelo curatelo il curriculum il curriculum non lo scrivete in un'ora il curriculum ci verrà minimo un giorno perché scrivere un curriculum perché non è semplice però spendeteci tempo perché veramente ne vale la pena il curriculum a quelli fatti male poco curati non invitano almeno alla lettura quindi vengono scartati in automatico ultime due domande poi chiudiamo anche perché abbiamo rubato più di un'ora di tempo è stato un piacere volata tuo marito forse non la pensa come te ancora non è arrivato ah posso allora ti rubiamo le ultime due domande allora un buon master dopo la laurea in lingue orientali io non ne ho idea per cui dipende quello che vuoi andare a fare cioè se vuoi fare un master in interpretariato ci sono i master per dire a Forlì o a Trieste se vuoi andare a lavorare nel marketing ti posso consigliare un master full time Milano io sono un master privato comunicazione lo stesso oppure fai un master di settore settore che può essere il fashion l'arte quello che può essere appunto la parte appunto dedicata all'hospitality dipende il master serve per orientare il tuo profilo verso una funzione o verso un settore quindi quello devi capire però con un laurea in lingue puoi fare praticamente tutto e l'ultima poi ovviamente non è l'ultima domanda nel senso se avete altre domande poi potete scrivere a Fabiana che tanto sarà felice di riceverle tutte stasera 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 tanto non è come penso che avrò altro da fare adesso c'è veramente no i DM si scriveteli con giudizio perché poi appunto sono solo io dovete trovare lo stagista un invito colgo l'occasione per invitarvi appunto a riascoltare la diretta perché molte magari delle domande di chi è entrato adesso abbiamo le abbiamo già formulate abbiamo già risposto esatto comunque UK ora Brexit situazione complicata conviene? non lo so temo di no temo di no cioè sei come andare in America a quel punto cioè devi fare il visto devi pagare un sacco di tasse è anche più complicato che in America sì non hai nemmeno le sicurezze a livello di cioè il vantaggio di essere in un'Unione Europea è che tu vai in un altro paese e hai gli stessi diritti a sanitari copertura sanitaria possibilità di lavoro possibilità di studio se no è come andare in un altro paese quindi tutto cambia tutto devi fare permessi sei un extra un extra cioè sei un migrato di fuori quindi non è bello ecco quando sei in un paese in cui non hai cioè tra virgolette non hai privilegio comunque sei un straniero così diciamo che uno tra i tanti diciamo che se c'è la possibilità io sconsiglierei di andare in Regno Unito ora io direi andate in Irlanda andate Paesi Bassi ecco Germania dove sei stato tu a Francoforte Francoforte fantastico consiglio consiglio la Germania a livello lavorativo è ottima poi vabbè a livello di stipendi si sa si è più pagati la difficoltà è che molti richiedono il tedesco però è un ottimo ambiente soprattutto consiglio molto gli ambienti internazionali sì esatto io consiglio per dire l'Irlanda dicevo prima tutte le aziende che lavorano nel tech nei servizi tech internet cercano personale italiano proprio perché tu dall'Irlanda fai consulenza alle aziende italiane quindi per dire salesforce che è un'azienda che vende software online quindi cloud cerca tante persone soprattutto anche persone giovani e le paga bene perché uno stage in salesforce viene pagato sui 2000 euro per diventare consulenti per poi le PMI italiane quindi tu segui le clientele italiane la stessa cosa Google Google a Dublino cerca personale italiana per fare questo consulenza e vendita di prodotti abbiamo finito? ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta no aspetta mi è partito un effetto ma chi è? no via è vero è un filtro no oddio ci sono i filtri no non li avevo mai visti ci sono i filtri aspetta ne metto uno anch'io aiuto guarda guarda è quella roba panda è un filtro di una mia amica giapponese io non uso i filtri aspetta lo toglio se no è inquietante allora è volata è volata oddio mi è partito per sbattere vabbè quindi ho un sacco comunque facciamo questo questo è un effetto abbronzatura comunque no grazie a tutti per aver partecipato siete stati tantissimi e quindi vuol dire che la diretta vi è piaciuta io sono molto felice che Fabiano abbia accettato e di tutto ciò di cui abbiamo parlato perché non solo è servito a me ma penso anche a tutti voi e colgo l'occasione di nuovo per ricordarvi che potrete guardare la diretta perché rimarrà disponibile e la pubblicheremo in IGTV quindi rimarrà sempre lì poi magari avremo anche occasione di farne altre benvenga quando vorrai veramente ci sono assolutamente a supporto mi farebbe piacere veramente mi ha fatto tanto piacere conoscerti anche a me tantissimo finalmente grazie mille finalmente finalmente allora buon anno a tutti direi a questo punto brindiamo brindo con l'acqua eh a chi guarda una bottiglia qui davanti d'accordo Lorenzo io ti ringrazio tanto allora bocca al lupo io resto a disposizione quindi qualsiasi altra cosa vogliamo fare dimmelo sì io sicuramente organizzeremo qualcosa per il 2021 e ringraziamo di nuovo tutti se avete qualsiasi domanda potete porla a lei nei DM con discrezione ovviamente ma il consiglio è di guardarvi la diretta se siete entrati esatto alla fine perché abbiamo discusso di molte cose ok veramente auguri a tutti buon anno ciao ciao che lo inizierai nel miglior modo sì ormai ormai dopo il 2020 non è che ti fai tanti diciamo esatto peggio di così speriamo no grazie a tutti grazie Fabiana grazie mille ciao ciao oh sono rimasto da solo grazie a tutti di nuovo è stato bellissimo io spero che vi sia stata utile la diretta ci vediamo alla prossima buon anno grazie a tutti